Comune di Perdi Fumo a rischio commissariamento. Cinque consiglieri infatti hanno votato contro il bilancio preventivo mettendo a rischio la tenuta della maggioranza. Il sindaco Vincenzo Paolillo dovrà ora informare il prefetto. Entro 20 giorni si capirà se ci sono i presupposti per provare a ricompattare la maggioranza. In caso contrario si procederà al commissariamento dell'ente. Il clima a Perdi Fumo si era surriscaldato con le dimissioni del vice sindaco Clelia Abbotti, una scelta che alcuni ritenevano fosse nell'aria anche alla luce di un malessere emerso negli ultimi mesi. La stessa Abbotti con i colleghi del suo stesso gruppo consigliare Nazario Matarazzo e Vincenzo Vigorito aveva sì manifestato la volontà di proseguire l'impegno amministrativo ma in condizioni diverse rispetto a quelle attuali. Inutili tentativi di ricompattare la maggioranza fino all'epilogo di ieri sera quando cinque consiglieri hanno espresso voto contrario. Qualora non si risolva la crisi si andrebbe al voto tra un anno.